San Valentino chiede aiuto all'ACA. In attesa del ripristino delle condizioni di potabilità dell'acquedotto che porta l'acqua dall'orfento, il Comune ha chiesto all'azienda acquedottistica di poter utilizzare il serbatoio già esistente sul territorio, visto che si trova in una posizione che consentirebbe l'allaccio. Intanto in Paese sono stati allestiti quattro punti di approvvigionamento idrico. Il vice sindaco Lino Sciambra ci spiega in che zone. Uno in Paese, l'altro in Contrada San Giovanni, l'altro in Contrada Travigliano e l'altro dovrebbe essere in Contrada Ciorrone, Solcano. Sono dei serbatoi di acqua potabile da cui poi le persone potranno andare liberamente ad attingere il quantitativo di acqua di cui hanno bisogno. Che significa portarsi tani che ho contenitori. Sì, esatto. Poi il quantitativo dei serbatoi verrà monitorato costantemente perché noi stiamo cercando di assicurare il rifornimento continuo in maniera tale che questi serbatoi siano sempre disponibili. Ricordiamo che l'acquedotto di San Valentino è gestito dal Comune di San Valentino, non è allacciato all'ACA, ma questo serbatoio è in una posizione tale da consentire eventualmente l'allaggio. Sì, abbiamo gesto all'ACA proprio questa mattina, la possibilità di utilizzare il loro serbatoio e dovrebbe essere possibile con un allaccio praticamente garantire da quel serbatoio l'erogazione direttamente nelle utenze domestiche. Comunque il nostro obiettivo è quello di chiaramente poter ripristinare l'utilizzo del nostro acquedotto con l'acqua dell'orfento non appena saranno terminati i necessari accertamenti.